domenica 26 ottobre 2008 re 17 c'è un'apertura importante qui a marta sul lago di bolsena nell'ambito del bellissimo relè del lago centro congresso e poi come dire c'è anche hotel molto molto bello c'è l'apertura di vitality centro di salute e benessere oggi c'è l'inaugurazione noi naturalmente siamo venuti a vederla questa è parte del re del lago che si affaccia proprio sul lago di bolsena e noi naturalmente ci vediamo tutti e tutti su www.ematube.com